Martin Hill di Vulde Fernandez, anno 4, numero 5, il guardiano. Ottimo! Lo impugno. Dubois, è successo qualcosa? Eh no, cioè sì, una cosa che mi intrigava da un po'. Ecco tutto. Tumpe. Di che si tratta? Beh, di un certo Martin Hill, un tipo molto ricco, e si sa che dietro un evasore fiscale. E dietro un evasore fiscale ci sono io. Questo è un caso molto strano. Cretina. Ma io andrò a fondo e lo farò ballare. Slam. Lo conosci, lo conosci, se li piglia. Se li piglia all'ossessione di un caso non si ferma finché non ha rubinato il contribuente che ha preso di mira. È il suo sommo piacere. Veramente noi dovremmo occuparci di evasioni fiscali e non di giochetti saldici. Mi accala, lui ha una goccia di potere. E questo potere è la sua sola ragione di vita. È un individuo ripugnante. Ha tentato di far arrestare le blanche lo scrittore. Quando gli ha chiesto la dichiarazione dei erediti, quel povero vecchietto non sapeva neppure di cosa parlassero. È il più affascinante e distratto che ho mai conosciuto. Sì, ma si è guardato bene dall'andare a fondo nello scandalo del ministro Foucher. Ti ho detto che è ripugnante, non che è stupido. E sai chi è questo Martin Hill che ha preso di mira? Sono mesi che sta raccogliendo materiale su di lui. Non lo so, ma la cosa non mi piace. Le sue ossessioni finiscono spesso per robinare degli innocenti. Martin Hill, mi piacerebbe informarmi un po' su di lui. Sono stufa di aiutare Dubois in indagini che puzzano di vessazione. E per questo nessuno mai lo dilla a noi. I giornalisti sanno sempre tutto. Martin Hill, che fai adesso? Ti dedichi alla magia? Magia? Non so di che pelle la noi. Chi è questo Martin Hill? Un tipo misterioso. L'ho conosciuto durante il caso di quell'assassino. Il seminatore di fiori. Misterioso, ma fantastico. E non credo di poterti dire altro. Dovrai cercarti da sola le tue conclusioni. Ti interessa? Mi interessa. E allora prenditi questo fan, una copia e restituisci. E' del mio archivio personale. Ti ringrazio. E dimmi, quella schifosa di Dubois tenta sempre di portarti a letto? Non me ne parlare. La solita idea mi da... La sola idea mi da la nausea. Vediamo, credo che la cosa sarà interessante. Grazie a tutti.